Cresce purtroppo il numero dei contagi al Covid-19, ma per fortuna in questi anni di pandemia è cresciuta anche la capacità, a parte il vaccino, di curare chi si infetta. Uno dei maggiori esperti a livello nazionale su questo fronte, grazie anche all'esperienza maturata sul campo, è il professor Giuseppe Fiorentino, direttore del Dipartimento di Pneumologia ed Oncologia all'Ospedale Monaldi di Napoli. L'importante è sapere se il paziente è vaccinato o no. Se il paziente è vaccinato a contatto col virus sviluppa una reazione infiammatoria. Quindi sicuramente un antifiammatorio al bisogno o con cadenza rutinaria mattina e sera per i primi giorni può essere utile. Come sintomatico un antipiretico come il paracetamolo può essere preso. Se la sintomatologia persiste ancora successivamente si può iniziare una terapia con bassi dosi di steroide. È importante sapere che sia nei pazienti vaccinati che nei pazienti non vaccinati abbiamo una terapia antivirale, abbiamo degli anticorpi monoclonali che possono essere fatti e abbiamo degli anticorpi monoclonali in pazienti particolarmente debilitati che non sviluppano reazioni immunitarie nelle vaccinazioni precedenti. È sempre l'essere o meno vaccinati, dice sempre Fiorentino, diventa discriminante anche per l'utilizzo di cortisone. Nei pazienti vaccinati conviene aspettare un po' che il corpo reagisca all'infezione. Se l'infezione diventa una iperistimulazione del sistema immunitario con sintomi che non recedono dopo i primi due o tre giorni può essere iniziata una terapia steroidea a basse dosi.